buongiorno a tutti guardate un po questa mattina arrivati in fattoria io e Ludovico abbiamo trovato una sorpresa Elvis e Giorgia sono diventati genitori non sappiamo se di un maschietto o di una femminuccia è ancora tutta bagniata o bagniato guardate che meraviglia questo puletrino appena avremo stabilito il sesso faremo il totonome e quindi voi ci aiuterete a dare un nome da maschietto o un nome da femminuccia o un nome di fantasia che vada bene per l'una e per l'altra Giorgia la mamma è un po guardinga giustamente guardate sta cercando la mammella della mamma per prendere il latte guardate sta cercando la mammella